Siamo presenti, abbiamo dato la nostra sponsorizzazione a questa importante manifestazione che fa parte del circuito europeo della Code Week, quindi della promozione della programmazione tra i giovani, tra gli studenti. Dobbiamo diffondere questa cultura informatica che non vale solo per creare un nuovo business, ma vale proprio come formazione dei giovani e degli studenti per aumentare le loro capacità logiche, le loro capacità matematiche. Domani la regione organizza una propria manifestazione collegata a questa, una hackathon proprio per avvicinare gli studenti giovani a questo importante mondo. Per noi è estremamente importante anche per il collegamento che ha per la nostra strategia di specializzazione intelligente, dove tutto il settore dell'ICT, in particolare le nuove app, sono particolarmente presenti e importanti e si stanno sviluppando. Ma vorrei anche dire che è importante capire come il mondo della programmazione, il mondo dell'information technology deve permeare tutta la nostra economia e quindi anche i settori più tradizionali, penso al turismo, all'archeologia, all'agri-food. Quindi cosa c'è ancora da fare? Quali sono ancora i passi da compiere per arrivare a Sardegna 2050, visto che l'associazione che organizza ha questo nome? Sono tanti e sono tante le cose da fare. Se le facessimo in un anno, poi fino al 50, che cosa ci rimarrebbe da fare? Ovviamente sono tante le cose, bisogna procedere nella direzione giusta che è quella di partire da un cambiamento proprio culturale ed è quello che a mio avviso la Regione insieme a tutte queste forze, Sardegna 2050, l'open campo di Tiscali che oggi ci ospita, tante altre imprese, l'università, tutti insieme stiamo facendo un po' alla volta per andare in una direzione di far crescere la Sardegna, di far accrescere il nostro capitale culturale in una direzione che sia una direzione di apertura, di modernità, di utilizzo pieno delle risorse digitali. All'interno del FESMA, di tutta la programmazione europea, abbiamo sviluppato la nostra strategia di specializzazione intelligente, la S3, che stiamo presentando, lanciando, stiamo coinvolgendo tutti gli stakeholders. Questa è basata sull'individuazione dei settori nei quali la Sardegna ha dei vantaggi comparati e nei quali quindi può puntare. C'è l'ICT che è consolidato, è presente, che può diffondersi nel resto dell'economia, ma ci sono anche settori tradizionali, per esempio l'agroalimentare, gli attrattori culturali e turistici. È importante capire che l'information technology, oggi, quindi per esempio anche il code, la programmazione che stiamo celebrando qui oggi, sia una cultura che deve entrare in tutti quanti i settori, anche quelli tradizionali. All'interno di scuola uno spazio molto importante è dedicato alla programmazione, all'informatizzazione. C'è un settore specifico che è il learn to code, quindi imparare a programmare, organizzato in collaborazione con la Code Academy, che è questa organizzazione mondiale che diffonde appunto la cultura della programmazione. È importante che i nostri giovani, sin da piccoli, quindi sin dalle scuole della media inferiori e poi superiori, imparino a programmare, perché questo sviluppa le loro capacità logiche, le capacità matematiche, ma allo stesso tempo dà anche opportunità di creare impresa, dà opportunità di creare occupazione. Sicuramente la Sardegna è una terra fertile da questo punto di vista e quindi diffondere queste conoscenze darà certamente anche delle risposte di lungo periodo in termini di occupazione. Assessore, quanto sarebbe importante che la Regione continuasse e premesse sull'opportunità di riunire intorno a un tavolo tutti i fautori dell'innovazione in Sardegna? Lo stiamo già facendo, lo facciamo attraverso Sardegna Ricerche, che è l'agenzia regionale che diffonde l'innovazione tecnologica tra le imprese, in stretta collaborazione ovviamente con l'università e qui dobbiamo sicuramente rafforzare questi legami. Ci stiamo lavorando, come dicevo, all'interno della strategia S3, dove l'innovazione tecnologica è il punto molto qualificante, intorno all'ICT, che è uno dei cluster sicuramente più consolidati in Sardegna. La mia idea nelle prossimi mesi è proprio quella di rafforzare il tavolo tra Sardegna Ricerche e quindi il mondo pubblico regionale, gli altri istituti pubblici, pensiamo a CRS4, a Portoconte Ricerche, l'università e ovviamente le imprese, perché senza le imprese non riusciamo certamente a fare innovazioni, a diffondere l'innovazione. Il luogo deputato per fare questo potrà essere la manifattura tabacchi, ormai ristrutturata, che contiamo di lanciare a breve, proprio come cittadella, come luogo dell'innovazione e della creatività.